Questo Narnia Festival è uno dei gioielli dell'Umbria, che è una regione piccola ma dal punto di vista culturale molto vivace. E da qui una delle sue espressioni di spicco, alle quali sono stato molto contento di aver partecipato, tanto più che ero in compagnia di uno dei più illustri clinici italiani e del maestro Pegoraro con un programma sceltissimo, molto ben interpretato al piano. Meglio di così non poteva andare. Voglio esprimere tutti i miei complimenti per questa iniziativa che ancora una volta sintonizza una grande performance artistica con quello che è di più bello nella vita e nell'esperienza umana, la solidarietà e la sensibilità verso le persone che magari hanno dei momenti di fragilità come la malattia. Questa sera abbiamo vissuto un servizio per il paziente, per le persone con ansia e problemi di grandissimo valore perché hanno dimostrato ancora una volta come l'arte, la musica, la bellezza sia di grande aiuto per l'umano, e per tutte le situazioni di difficoltà che si possono incontrare.